Che i politici fossero dei prestigiatori tali da far sparire il cappello insieme al coniglio, questo lo sapevamo. Che in tutto questo si portassero appresso come assistenti burocrati regionali era facile supporlo. A sparire questa volta insieme al coniglio e al cappello sono i dati relativi alle prestazioni extra budget effettuate da Cattolica e Neuromed. Per la precisione quelli relativi ai mesi di maggio e giugno 2016. A firma del direttore del servizio programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale Lolita Gallo, lo scorso 2 settembre la regione Molise e segnatamente la direzione generale per la salute ha prodotto due determine dirigenziali, la numero 4117 e la numero 4118, destinate rispettivamente alla liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nei mesi di maggio e giugno 2016 dalla Fondazione Giovanni Paolo II per brevità chiamata Cattolica e dall'Istituto Neuromed di Pozzilli. Al momento non è dato di sapere se il fatto sia dovuto ad una svista o ad una deliberata volontà ma dai documenti in questione è sparito il valore dell'extra budget riportato ad esempio nella liquidazione del bimestre precedente. Il meccanismo è semplice, Cattolica e Neuromed vengono pagate ogni due mesi sulla base delle prestazioni fatturate alla regione Molise e previ un controllo effettuato da un apposito servizio regionale. Questo nei limiti di un budget annuale diviso in sei bimestri predeterminato dalla regione e sottoscritto dalle due strutture. Teoricamente salvo contenzioso tutto quello che c'è del valore assegnato non va pagato o non dovrebbe essere pagato. Le recenti transazioni milionarie disposte dalla regione e collegate agli adempimenti imposti dal tavolo tecnico nazionale per il rientro dal debito sanitario dicono ad esempio il contrario. Bene, come dimostrano le carte nel bimestre precedente marzo-aprile, la regione ha indicato di quanto Cattolica e Neuromed abbiano sforato il budget, rispettivamente di 1.300.000 euro la prima e 1.500.000 la seconda. Posto che le due strutture non sono enti di beneficenza, porre la domanda chi paga come ha fatto la nostra emittente qualche settimana fa è più che legittimo. La regione molise non solo non ha risposto, ma ha fatto sparire dai propri atti la rendicontazione sull'extra budget sostituendola con una formula cristallina quanto un attacco d'asma. Alle parole del passato è seguito un gargarismo in burocratese. Allora proviamo a riformularla circostanziandola la domanda. Per il terzo bimestre 2016, Cattolica e Neuromed hanno prodotto prestazioni extra budget? Se sì, a quanto equivalgono? E soprattutto chi le pagherà? Frattura in campagna elettorale aveva promesso una regione casa di vetro. Le carte dicono il contrario. Il Molise è un bunker accessibile solo a politici e burocrati. Ci aspettiamo che su questo episodio chi deve e chi può faccia piena ed immediata luce.